Un agricoltore di origine rumena, Ionita Gabriel Ionit, 26 anni, residente a Naro, è morto ieri pomeriggio a seguito delle ferite riportate per il ribaltamento di un trattore agricolo. Il giovane si trovava alla guida di un trattore quando, in contrada perciata, territorio di Naro, per cause, ancora in fase di accertamento, il mezzo si è capovolto trascinandolo per una decina di metri nella parte sottostante e finendo per schiacciarlo. Soccorso da altri braccianti, immediatamente trasportato presso l'ospedale Barone Lombardo di Canichetti, è giunto cadavere. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Canichetti e i carabinieri di Naro per i rilievi. La zona in cui l'agricoltore stava lavorando si presenta scoscesa, ecco perché, probabilmente a causa di una manovra in prossimità di una scarpata, il romeno ha perso il controllo del mezzo che lo ha schiacciato, procurandogli ferite gravi fino a fargli perdere la vita. I soccorsi sono stati immediati, infatti sono stati gli stessi colleghi di lavoro ad accorgersi dell'incidente e prestare i primi soccorsi. Ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, quindi sul posto è giunto l'ambulanza del 118 che ha trasferito Ionita Gabriel Ionit al nostro commio canichettinese. Adesso la salma si trova all'obitorio dell'ospedale di Canichetti, probabilmente sarà disposta all'autopsia, ma ancora il magistrato non ha deciso. Ionita Gabriel Ionit era arrivato qualche anno fa a Naro e lavorava in campagna. Era un ragazzo molto riservato, ma allo stesso tempo un onesto ed infaticabile lavoratore. È venuto in Italia lasciando il suo paese di origine, la Romania, alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore. Invece ha trovato la morte proprio mentre stava rando un terreno.